amiche carissime ave maria una santa serata a tutti bentornati siamo insieme per una nuova puntata del ciclo di catechesi la sana dottrina cattolica giunto alla puntata se non sbaglio numero 12 questa sera c'è la seconda ed ultima parte speriamo che ce la facciamo in una parte sola dedicata al peccato originale chi ha seguito in diretta o ha sentito il podcast o il video della puntata precedente ricorderà abbiamo parlato del peccato originale appunto perché stiamo al termine della prima diciamo così sezione dedicata al sacramento del battesimo e al primo comandamento era opportuno fare un escursus sul peccato originale angelico e degli uomini col peccato originale degli angeli ci siamo cavata con una sola puntata distinguendo un aspetto teologico dogmatico e una ipotesi teologica circa il contenuto del peccato angelico con quello degli uomini non ce l'abbiamo fatta a fare tutto in una puntata sola ma la volta scorsa abbiamo presentato il contenuto dogmatico teologico del peccato originale quindi ciò che costituisce patrimonio appunto della fede divina e cattolica riservandoci ad oggi il tentativo di formulare un'ipotesi teologica appunto su che cosa è successo quale è stato il peccato originale dei nostri progenitori dico subito dal momento che stiamo parlando di sana dottrina cattolica che questa è una ipotesi teologica quindi questo non è magistero della chiesa quindi non è non c'è la sottoscrizione autorevole della chiesa anche se non ha mai ricevuto nessuna condanna come vedremo subito ci sono delle basi solide per quello che sto per dire perché un'ipotesi teologica non è una chiacchierata fatta tanto per farsela insomma no perché un'ipotesi teologica vedremo che serve a capire alcune cose a dare una spiegazione ragionevole nelle cose della fede non c'è mai una spiegazione razionale la razionale significa assoluta ed incontrovertibile non esiste nelle cose della fede ci sono delle spiegazioni ragionevoli cioè che se tu ammetti questa cosa tutta quanto una serie di aporie o di elementi problematici trovano una risposta coerente ecco non è mai stata sposata ma non è stata mai condannata e vedremo che tra i fautori ci sono cinque dottori della chiesa non uno cinque alcuni tra i padri soprattutto orientali tra cui citeremo anche leggerò un tratto insomma di san giovanni crisostomo e poi c'è un certo san tommaso d'aquino o per chi conosce bene la teologia l'esimio teologo gesuita francisco suarez che la massima autorità teologica del 1500 assolutamente indiscusso d'accordo quindi insomma non è una posizione campata per aria insomma no quindi ha delle basi solide però per quanto questi siano santi e dottori voi sapete che non tutto quello che dice un santo dottore è un dogma di fede dogma di fede sono soltanto quelli formulati dai concili e dal papa quando parla ex cattedra ecco quindi questa è una materia su cui si ha libertà perché la volta scorsa abbiamo visto quello che la chiesa insegna quindi non si può uscire adesso faremo subito un'ultima introduzione anche perché sono alcuni aspetti che sono inerenti al nostro tema e però oggi vedremo che cosa può essere stato un accordo sulla base di queste testimonianze e sulla base anche lo confesso insomma candidamente perché tutte quante queste testimonianze dei vari e santi e dottori sono state magnificamente raccolte negli scritti di maria valtorta dove gesù in persona avalla questa ipotesi teologica gli dà fondamento e la spiega d'accordo ciò detto allora numero uno ci sono due interventi magisteriali e che dobbiamo tenere presenti e che riguardano attenzione carattere storico dei primi capitoli della genesi noi non possiamo pensare attenzione è che il peccato originale sia una favoletta come qualcuno purtroppo oggi pensa una narrazione allegorica ma mica sono esistiti veramente ad amo ed eva chi pensa questo non c'è che è fuori della comunione con la chiesa cattolica chiunque sia d'accordo fosse dio non voglia spero che nessuno pensi queste cose ma fosse pure prete fosse pure frate e fosse pure vescovo d'accordo ma non credo che ci sia nessun vescovo che pensa una cosa del genere voglio voglio ben sperarlo insomma d'accordo quindi perché perché già nel 1909 la pontificia commissione biblica intervenne autorevolmente dicendo che non è possibile ad un cattolico mettere in dubbio il senso storico letterale o storico letterale dei primi tre capitoli del libro della genesi d'accordo storico letterale non vuol dire che vanno intesi alla lettera perché vedremo che alla lettera non si possono intendere d'accordo perché il frutto proibito certamente l'abbiamo visto già la volta scorsa non può essere la mela che poi si era scelta la apple come simbolo trasgressivo no quindi storico letterale non vuol dire alla lettera ma vuol dire però che si tratta di fatti storici non di fantasie realmente accaduti all'inizio della storia dell'umanità d'accordo la dottrina del peccato originale è assolutamente il fondamento della chiesa cattolica è il fondamento che spiega tutto perché noi ci ritroviamo così perché gesù è morto in croce non perché si è incarnato ma perché è morto perché ha sofferto il morto in croce certamente si è d'accordo perché senza peccato la scuola francescana dice che uomo ci sarebbe diventato lo stesso ma in croce non ci andava nostro signore quindi d'accordo quindi allora più dodicesimo nel 1950 nell'umani generis ha condannato il poligenismo cosa significa significa ritenere che il genere umano derivi da poligenesi in greco no da molte genesi quindi che non ci sia un solo capo stipite del genere umano della razza umana leggo testualmente qualche cosa la leggerò per forza specialmente quando si tratta di interventi magisteriali cito umani generis quando si tratta del poligenismo i figli della chiesa non godono affatto di libertà i fedeli non possono abbracciare quell'opinione i cui assertori insegnano che dopo ad amo sono esistiti qui sulla terra veri uomini che novan che non hanno avuto origine per generazione naturale naturale attenzione dal medesimo come da progenitore di tutti gli uomini oppure che ad amo rappresenta posizioni di alcuni eseggeti di quei tempi l'insieme di molti progenitori non appare in nessun modo come queste affermazioni si possano accordare con quanto le fonti della rivelazione e gli atti del magistero della chiesa ci insegnano circa il peccato originale che proviene attenzione da un peccato veramente commesso da ad amo individualmente personalmente e che trasmesso a tutti per generazione è inerente in ciascun uomo come suo proprio chiaro quindi su questo d'accordo non ci si muove quindi documenti magisteriali affermano perentoriamente la realtà la storicità del peccato originale e il fatto che sia stato commesso da un solo uomo come capostipire del genere umano e che da esso si sia trasmesso per propagazione e si trasmette nell'atto del concepimento attenzione è concepimento due gameti che diventano uno zigote significano oggi lo sappiamo bene a tutto il genere umano senza nessuna eccezione tanto è vero che la che il nostro signore per fare che la madonna fosse la madonna dovuto fare un miracolo perché se non si fosse avvenuto un miracolo non si può nascere come nascono oggi gli uomini cioè per riproduzione sessuata senza peccato originale ok questi sono dati oggettivi di fatto per capire un altro dato oggettivo di fatto dobbiamo capire un'altra cosa attenzione prima di introdurci alla questione perché prima ci vogliono dati oggettivi di fatto è allora che che oggi se ne pensi questo deve essere chiaro il sesto comandamento cioè non commettere atti impuri è tuttora pienamente vigente quello che la chiesa insegna in positivo riguardo questo comandamento perché il negativo si trae e in maniera molto semplice dal positivo tutto quello che non corrisponde a questo positivo è negativo e rappresenta attenzione un atto sempre intrinsecamente cattivo sempre la chiesa questo l'abbiamo imparato a catechismo lo sanno tutti insegna che al matrimonio bisognerebbe arrivare vergini questo lo sanno tutti lo sanno anche se non lo vive più quasi nessuno più o meno tutti sanno questa cosa d'accordo che al matrimonio bisognerebbe diventare arrivare vergini questo lo sanno tutti ma più precisamente la chiesa insegna che la vita sessuale tra uomo e donna richiede prima di poter essere vissuta un sacramento che al matrimonio e che anche all'interno del matrimonio va vissuta in maniera umana lodevole e degna quindi chiaro in particolare paolo sesto nell'umane vite insegna che l'atti l'atto unitivo non può essere mai disgiunto dal fine procreativo d'accordo e che questa è la morale classica il piacere sessuale perdonatemi il termine esplicito ma per capirci anche tra coniugi è lecito solo quando è il coronamento dell'atto coniugale si capisca che cosa si intende vissuto nella volontà di dio cioè aperto alla vita queste tre cose non sono argomento di discussione per una persona che voglia rimanere fedele alla chiesa cattolica adesso non è questa la sede per approfondirlo forse poi ci arriveremo perché c'è un perché per tutte quante queste cose ma bisogna tenerle presente anzi alcuni perché li capiremo proprio con queste ipotesi che faremo questa sera perché queste ipotesi spiega proprio questi perché tra l'altro d'accordo come ho detto nell'omelia di ieri alla festa della santa famiglia noi dobbiamo chiederci perché la chiesa insegna queste cose o meglio non è che la chiesa insegna queste cose perché è volontà di dio questa qua perché gesù cristo è istituito un sacramento per il matrimonio gli uomini sono sempre sposati perché nasca un figlio non c'è bisogno del sacramento del matrimonio e neanche perché quello sia indissolubile perché l'indissolubilità aprite il diritto canonico non è radicata nel sacramento ma è radicata nella natura nel progetto di dio la vicinanza piena e perfetta di uomo e donna era stata comandata dal signore prima ancora del peccato originale d'accordo quindi a che serve il matrimonio e perché niente sesso scusatemi se sono così tanto c'è il mio caro amico e collega che raccomando la visione che fate video stupendi che si chiama don alberto ravagnati ravagnati lo conoscerete in molti di voi è bravissimo assolutamente per i più giovani vedete i suoi video che sono molto molto formativi anche se uso un linguaggio appunto per parlare con i giovani molto molto forte no perché niente sesso scusatemi fuori del sacramento del matrimonio niente non è possibile provare il piacere sessuale questo è quello che insegna la chiesa io le cose le dico chiaramente perché così è d'accordo queste dovrebbero essere insegnate da tutti quanti cioè che uno poi dica ah ma come si fa a vivere questo oggi in tempo post rivoluzione sessuale questo è un altro discorso d'accordo che questo possa essere difficile siamo tutti quanti d'accordo ma che questo sia l'insegnamento e quindi il fine verso cui chi vuole vivere coerentemente la fede deve tendere altrettanto in dubbio d'accordo perché perché ci sarà un motivo e vogliamo andare tutti quanti d'accordo a dire che la chiesa è sessuofobra è retrograda è ancora appressa a queste cose e sarebbe ora che la facciamo finita e che sdoganiamo tutto quanto punto interrogato noi crediamo questo attenzione però cioè su questo argomento la chiesa è vista da 2000 anni d'accordo no da una settimana non c'è stata una sola testimonianza autorevole ma una è una che abbia cantato fuori dal coro mai d'accordo per cui chi interpreta questo come alla chiesa sessuale sinistra va contro 2000 anni di tradizione ininterrotta d'accordo senza nemmeno una voce che canti fuori dal coro d'accordo allora perché ho fatto tutte quante queste precisazioni preventive io faccio così formulo la tesi e poi vediamo le giustificazioni di questa tesi che meglio chiamarla ipotesi allora fin dai tempi della patristica ha cominciato a diffondersi l'idea fondata su alcuni dati della scrittura per esempio testi misteriosi che significa quando nel salmo 50 si dice nel peccato mi ha concepito mia madre cosa significa nel peccato mi ha concepito mia madre cioè mi ha trasmesso il peccato originale concependo o l'atto del concepimento è peccato e quindi trasmette il peccato non so se capite no allora molto presto perché clemente alessandrino che il primo autorevole testimone è opera tra il 150 e il 215 dopo cristo quindi in età abbastanza recente è stato il primo a formulare queste ipotesi seguito poi dal grande san gregorio di nissa dottore della chiesa giovanni crisostomo uno dei più grandi dottori della chiesa che si è mai esistito adesso ci daremo un passo e san giovanni damasceno l'ultimo grande rappresentante della patristica un mostro e un'anima devotissima alla madonna questi quattro autori sono stati quelli che non sono gli unici ma sono stati quelli che più di altri hanno sostenuto questa tesi cioè il peccato originale è stato il primo atto sessuale cioè la sessualità non avrebbe dovuto essere la modalità di riproduzione dell'essere umano la prova dell'eden era esattamente questo non violare il segreto della vita non degradarsi cioè scendere ad un livello riproduttivo inferiore a quello della razza umana che è quello della specie animale sappiamo che almeno una larga parte del mondo animale certamente non quelli che si riproducono attraverso le uova ha come strumento come mezzo di riproduzione la riproduzione sessuale d'accordo questa era la grande prova quali sarebbero gli indizi primi indizi biblici allora numero uno abbiamo visto la volta scorsa non c'è soltanto il problema della conoscenza del bene e del male che abbiamo visto non è il bene e il male ma è conoscere il male ma quello con cui il diavolo provoca eva è tu puoi diventare come dio dice io posso fare tutto meno che questo dice meno che questo lo sai di che cosa ti ha privato dio di scoprire come è bello essere uguale a lui lui è la vita lo sai che pure tu puoi dare la vita tu non lo sai perché questo è esattamente quello che dio non ti vuole far conoscere te lo faccio conoscere io d'accordo e non soltanto non vuole farti conoscere questo ma questo se tu fai quello che ti dico io perché eva ha peccato prima da sola attenzione non soltanto che ti fa essere dio a te e ad amo perché vi rende creatori ma vi darà il piacere più bello che esiste c'è tutti gli altri che ci avete non sono niente in confronto di questo diventare come dio che significa che uno se mangia una mela diventa come dio scusate cioè già questa cosa è molto significativa attenzione stiamo sempre dati bibbi ci vado un pochino appennellate quando a gesù vi ricordate nel vangelo di luca i saducevano a chiedergli senti po perché loro non credevano nella risurrezione no spero che tutti quanti noi ci crediamo invece nella risurrezione della carne quando vanno a chiedere a gesù dice senti un po quel tizio c'ha avuto sette c'ha avuto quella donna c'ha avuto sette mariti perché c'era una legge ebrea sai se muore il marito deve prendersi il parente più prossimo insomma questo ha fatto uno cimitero sono morte sette persone sette persone sono state suo marito alla risurrezione loro gli fanno una domanda provocatoria no siccome non c'è stava la policamia questa con chi va di chi sarà moglie attenzione che nella sacra scrittura moglie è diverso da sposa maria adesso vedremo anche maria giuseppe gesù è sposa di giuseppe non moglie non è mai chiamata moglie nella sacra scrittura perché noi non conosco uomo conoscere nella nella sacra scrittura significa conoscere in quel senso d'accordo ecco passiamo a quindi attenzione e i saducei cosa risponde gesù i figli di questo mondo attenzione prendono moglie e prendono marito i figli di questo mondo cioè quello di cui parli è una realtà che è circoscritta a questo mondo ma i figli dell'altro mondo non prendono moglie e marito cioè cosa sta dicendo gesù in paradiso scusatemi anche qui il termine diretto il sesso non c'è ma attenzione non immaginiamoci noi il paradiso di prego è d'accordo come che ne non c'è ma stero e cupo buio dove si fanno soltanto i canti tristi cioè il paradiso non è così è il paradiso è dice san paolo occhio non vide né orecchie rie luogo di ogni delizia e piacere possibile immaginabile si chiama l'eterno godimento si chiama la beatitudine i santi godono chiaro ma guarda un po' c'è sta tutto meno che il sesso ma come mai ci sarà un motivo o no o è sessuofobo anche domini dio scusate ci sarà un motivo terza cosa noi abbiamo gesù giuseppe maria domanda gesù si è sposato no perché punto interrogativo secondo la madonna era moglie di san giuseppe no perché punto interrogativo e perché dopo che vabbè gesù doveva nascere proprio dello spirito santo perché era dio va bene e dopo che è nato gesù che problema c'è scusate c'è qualche problema perché quel poro san giuseppe ha dovuto rimanere castro per tutta la vita uno potrebbe pensare d'accordo con la mentalità laica perché punto interrogativo attenzione altra cosa ma il matrimonio di gesù di giuseppe di maria era vero matrimonio erano una cosa sola giuseppe maria si amavano giuseppe maria o vabbè stavano insieme così cioè uno al polo nord uno al polo sud stavano insieme tanto così per scherzo per fare una copertura gesù però tu al posto tuo io al posto mio questi sono tutte quante capito elementi su cui perché io non io non vorrei assolutamente questa sera questa noi facciamo un'ipotesi o in questa materia completamente libera nessuno è obbligato a che a crederci però noi dobbiamo imparare a interrogarci e vedere quello che specialmente su queste cose del tutto opinabili ci convince o non ci convince d'accordo questi sono tutti quanti fattori d'accordo come mai gesù non si è sposato come mai la chiesa attenzione e questo è magistero costante della chiesa posso leggervi anche qui qualche cosa prendiamo per esempio il concilio di trento se qualcuno dice che lo stato coniugale deve essere anteposto allo stato di verginità o celibato e che non è migliore più felice cosa melius ac beatius in latino rimanere nello stato di verginità o di celibato piuttosto al contrario matrimonio sia scomunicato capito questo era valido ieri cioè quando un concilio dice questa cosa non può esserci un altro concilio non può dire il contrario è un papa non può dire il contrario di questa cosa questa rimane per sempre per questo che prima di formulare un dogma in forma di anatematismo bisogna pensarci nella chiesa cattolica il matrimonio è portato in palma di mano è un grande sacramento nessuno come dire minimizza o toglie l'importanza ma la verginità si trova in uno stato più eccellente perché perché allo stato che hanno scelto gesù giuseppe maria e come vedremo questa sera è lo stato in cui il genere umano avrebbe dovuto rimanere d'accordo tutti pur senza vedersi preclusa per l'uomo e per la donna anche se in modo che non sappiamo la gioia della paternità e della maternità e pur vivendo l'uomo e la donna non soltanto in un rapporto di amore profondissimo ma ancora più intenso di come viene vissuto adesso quando c'è anche l'unione carnale e ancora più bello d'accordo allora cominciamo a citare san giovanni crisostomo in due sue opere le omelie sulla genesi e il de virginitate parla di questo argomento con queste parole san giovanni crisostomo andate a vedere su wikipedia chi è san giovanni crisostomo è uno dei padri più importanti e più santi e più dotti della chiesa d'oriente lo chiamavano crisostomo in greco chiusos in greco significa oro stoma significa bocca non è il cognome crisostomo è il soprannome cioè bocca d'or lo chiamavano per quello che usciva dalla sua bocca quando predicava d'accordo scrive ad amo con obbe la sua donna considera quando quando è in corsivo ciò accadde dopo la caduta con obbe attenzione con obbe in senso biblico non conosco l'uomo dice la madonna con obbe in senso biblico quindi c'è stato insieme come marito dopo la caduta dopo la perdita del paradiso solo allora iniziò l'uso della sessualità questo è san giovanni crisostomo prima del peccato essi imitavano la vita degli angeli e non si parlava affatto di vita sessuale attenzione imitare la vita degli angeli non non si pensi che si tenga fuori la corporeità noi non siamo solo spirito vi faccio una domanda prendiamo l'episodio di maria maddalena che va a piangere ai piedi di gesù cosa fa maria maddalena scusate sono sempre molto concreto maria maddalena si mette ai piedi di gesù li tocca con le mani d'accordo ci piange sopra li bacia queste sono cose molto concrete ha impedito gesù di fare una cosa di questo genere sì o no no ha peccato maria maddalena a fare una cosa di questo genere e quindi gesù sarebbe stato complice di un peccato no quindi si possono baciare con le labbra i piedi reali di gesù da parte di una donna purché sia fatto da parte di una donna convertita e non con malizia certamente sì altrimenti non gliel'avrebbe fatto fare altra domanda la madonna secondo noi l'abbracciava gesù o stavano distanti così come due cose di questo genere stavano così o no quindi la corporeità attenzione è cosa diversa dalla sessualità perché la sessualità comporta l'esercizio della libidine quindi il piacere degli organi genitali d'accordo ed è qualche cosa che anche noi non ci siamo nati ce lo ritroviamo a partire da una certa età dall'età della pubertà e non la sappiamo controllare questa è la prima parte di Giovanni Chisosto ma attenzione scusate se sono un pochino frammentario quali sono le conseguenze del peccato originale? per esempio con dolore partorire ai figli e perché? che c'entra nel dolore del partorire ai figli con con mangiarsi la mela? che c'entra? c'entra qualcosa? guardate che nella divina sapienza le conseguenze sono sempre in proporzione a quello che hai fatto mi siete mai chiesti come mai nell'antico testamento c'è tutta quanta la la disciplina quando una donna aveva il suo periodo nessuno poteva toccarla perché la perdita di sangue adesso ci sono tutte quante le limitazioni di quella cultura del tempo ma la perdita di sangue era considerata una cosa non bella io non sono una donna ma sicuramente per una ragazzina la prima volta che gli capita quell'episodio e anche insomma queste povere donne a me mi fanno io l'abbraccio tutte quante spiritualmente mi dispiace che c'è questa cosa tutti gli santi mesi che fino a quando sono fertili guarda un po' c'hanno quello che c'hanno è normale? è una cosa normale? adesso sì ce l'hanno tutti ma facciamo una bella domanda provocatorissima la Madonna aveva questo problema secondo noi sì o no? ed è connesso attenzione dipende dalla santità della Madonna o dipende da qualcos'altro perché le grandi sante canonizzate ce l'hanno avuto questo problema non è che la santità lo toglie quel problema la Madonna non ce l'ha avuto per qualche altro motivo la Madonna non ce l'ha avuto perché non ci aveva il peccato originale non era stata nemmeno sfiorata la Madonna ha partorito Gesù nel dolore come tutte le donne no ma non solo perché Gesù era Dio non solo per quello perché il parto con dolore è una conseguenza del peccato originale se la Madonna non ce l'ha non può partorire nel dolore ancora sempre conseguenze del peccato originale i rapporti tra l'uomo e la donna verso di te sarà il suo istinto dice Dio ad Eva ma egli ti dominerà che è una cosa bella che ci si avvicina per istinto è una cosa bella che l'uomo domini sulla donna no oggi per carità ma il dominio anche ingiusto dell'uomo sulla donna ma per quanto tempo è andato avanti proprio la sopraffazione sono tutte quante domande che dobbiamo porci attenzione la morte la morte è l'ultima conseguenza ma che cos'è la morte mica qualcuno di voi penserà che con la morte è finito tutto con la morte non finisce per manco per niente tutto la morte è una cosa assolutamente pazzesca cioè il momento in cui il nostro corpo da cui è costretta ad uscire la nostra anima in maniera completamente innaturale perché noi siamo esseri umani non siamo angeli la mia anima è fatta per stare dentro questo corpo che sarà per tutta l'eternità questo che vedete non è un altro sta faccia un po' meglio andrà avanti per tutta l'eternità capito speriamo un po' meglio insomma perché io non è che sono molto soddisfatto insomma di questa qui si dice che dall'altra parte si possono fare molti 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 cambiamenti ma la morte che succede il corpo diventa cibo per i vermi diventa putrefazione diventa carne rancida scusatemi se sono volutamente violento ma come mai ma come mai il corpo da nostro signore è stato fatto perfettissimo il corpo umano è un capolavoro incredibile e deve andare a diventare cibo per i vermi attenzione cosa disse la madonna alle tre fontane sapete morta non è morta quello che te pare ma che cosa è successo ma anche questo questo anche a Gesù Gesù è morto veramente sì ha subito la corruzione il cadavere di Gesù assolutamente no e la madonna disse alle tre fontane il mio corpo non poteva marcire attenzione non non doveva marcire quindi era giusto che siccome sono stato tanto brava come premio il mio corpo non marciva no no non poteva era impossibile era impossibile capite 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 quindi questa è la situazione secondo passo di San Giovanni Crisostomo all'inizio e prima del matrimonio attenzione c'era la verginità poi venne il matrimonio e diventò necessario sebbene attenzione ancora esso non sarebbe stato usato se Adamo fosse rimasto obbediente come sarebbero però allora sorte così tante migliaia di uomini se ti affligge questa questione dice allora come nascono i bambini detto proprio in termini prosaici dice se ti affligge questa questione allora io ti pongo la questione contraria dice San Giovanni Crisostomo da dove ha origine Adamo da dove Eva senza il sopravvenire del matrimonio sta dicendo non è che il nostro signore ha le mani legate come un gendarme cioè se non c'è la riproduzione sessuata non è buono a fare un altro essere umano affatto Adamo l'ha fatto da sé Eva l'ha tratto da Adamo poi il nuovo Adamo l'ha tratto dalla nuova Eva perché è questa altra cosa d'accordo va bene quindi continuo la citazione in questa o in un'altra maniera dice e con ciò dice da dove ha origine e con ciò in calzitudo dovrebbero tutti gli uomini nascere in questa maniera quindi li fa tutti quanti il nostro signore li va allora in questa o in un'altra maniera dice San Giovanni Crisostomo io non sono in grado di dirtelo noi non sappiamo come sarebbero andate le cose io non lo so se tu mi dici se non era così come sarebbero andate forse tutti concepiti come nostro signore una cosa è certa cioè una cosa è certa l'unione tra l'uomo e la donna non solo che ci sarebbe stata ma sarebbe stata migliore di quella che è attuale migliore più bella e il dono della maternità e della paternità sarebbero stati vissuti ma non così non così solo questo sta certo chiude San Giovanni Crisostomo che Dio non aveva bisogno del matrimonio per moltiplicare gli uomini sulla terra attenzione e qui entriamo al matrimonio monogamico allora un'altra considerazione salvo rare eccezioni perché le eccezioni ci sono dovunque in natura io non sono un esperto assoluto ma nella stragrande maggioranza dei casi quanto meno e la stragrande maggioranza dei casi è sufficiente per stabilire una legge tra virgolette gli animali quando è che si uniscono sessualmente i mammiferi quando la donna è disposta alla procreazione io ce l'ho avuti gli animali ce l'ho d'accordo quindi si sa questa cosa qui quindi negli animali dove negli animali si il sesso è stato proprio programmato da dio per questo fine particolare che è la riproduzione loro si uniscono solo quando sono fertili per gli esseri umani è così se fosse così c'era bisogno che Paolo VI scrivesse l'umane vite noi no per noi non è così questa realtà della sessualità l'uomo la può prendere con la sua intelligenza e usarla per una infinita potenzialmente gamma possibile di strumenti per raggiungere quel particolare tipo di piacere che è quello sessuale questo è d'accordo lo sappiamo e qui torniamo si può fare questo? no allora se questo fosse vero attenzione perché il sacramento del matrimonio? allora che cosa è successo col peccato originale? io sono andato un pochino abbiamo ancora un pochino di tempo se questa cosa è stata la prova cosa succede? Eva ascolta il serpente percepisce attraverso il serpente il piacere sessuale dopo di che quello gli dice guarda devi andare dall'amico tuo perché così lo vivete insieme e diventerete i padroni della vita lo fanno cadono allora qual era la conseguenza di questo? non soltanto tutte le conseguenze del peccato originale ma era la degradazione dell'essere umano cioè l'essere umano dopo questa cosa è sceso di un livello quindi da quel momento in poi veramente da quel momento in poi vedete cosa dice San Giovanni di Sostomo dopo il peccato originale arriva il matrimonio perché? perché gli esseri umani salvo le aberrazioni che fanno adesso con le clonazioni con le fecondazioni con le torrole tutte queste cose qui non nascono se non in questo modo e anche quando si fa in laboratorio o altro quello che si fa in alto e di altro è sempre unire un gamete maschile con un gamete femminile questo si fa attenzione però questa modalità peccaminosa era prima e peccaminosa rimane dopo allora cioè se due ragazzi torniamo alla dottrina della chiesa si amano d'accordo hanno disegnato molto tanto la vita stanno insieme aperti alla vita per carità come dice Paolo Paolo VI e hanno un figlio hanno fatto una cosa licita o hanno fatto un peccato mortale io lo so che molti pensano di no ma la realtà è sì hanno fatto un peccato mortale perché e se due sono sposati al comune fanno peccato mortale e se due sono sposati in chiesa non fanno peccato mortale anzi adesso vi leggerò un pezzo della Gaudium et Spes la libertà dell'uomo attraverso lo strumento della grazia può riscattare il mondo della sessualità e farne una cosa gioiosa con cui ci si apre alla vita e con cui addirittura ci si riesce anche ad amare pur essendo questa cosa fondamentalmente una realtà fatta a scopo egoistico ma se la integri nell'affettività e nell'amore come una coppia deve fare può addirittura diventare una cosa bella non c'è nessuna sessuofobia a priori ma ci vuole un sacramento perché ci vuole un sacramento perché perché se non c'è il sacramento anche se tu fai l'atto buono quindi l'atto unitivo non il sesso sfrenato aperto alla vita e nasce una vita c'è il peccato lo stesso capite cioè io durante l'omelia domenicale cioè quando ero ragazzino io per grazia di Dio il Signore mi ha preservato non è merito mio ma io non ho conosciuto donna questo sia chiaro insomma lo dico con tutta la gioia possibile immaginabile senza mio merito e come atto di ringraziamento e di di ringraziamento assoluto al nostro Signore perché ne sono felicissimo però da piccolo mi facevo un sacco di domande andavo dai preti a dirgli senti un po' tu mi devi spiegare una cosa fammi una cortesia supponiamo che io adesso ho la fidanzata io li voglio tanto bene vogliamo stare insieme d'accordo tu mi vorresti dire che se noi stiamo insieme attento il giorno prima del matrimonio il giorno prima abbiamo già deciso domani andiamo in chiesa a sposarci faccio peccato mortale poi c'è il matrimonio alle 11 stiamo insieme la sera dopo non solo non faccio peccato mortale ma faccio addirittura perché sapete che il matrimonio solo rato dice il diritto canonico e non ancora consumato è ancora come dire scioglibile dal Papa il Papa può sciogliere con la sua autorità attenzione un matrimonio che è stato celebrato ma non ancora consumato cioè quando ancora non si è data questa cosa quindi addirittura dentro il sacramento il compimento dell'atto lo perfeziona in un certo senso addirittura capito perché va di due una cosa dico mi vuoi spiegare questa questa pazzia cioè quale magia succede con questo sacramento del matrimonio io così provocatoriamente gli dicevo non ne sapevo tutte queste cose ma capite se tutto questo discorso è vero allora è facilissimo facilissimo perché un sacramento perché nonostante che tu fossi capace già questo è molto difficile di fare un retto uso della sessualità cioè utilizzarla come linguaggio d'amore tra un uomo e una donna aperto alla vita ma con questo basta c'è un sacramento e se uno la castità coniugale di cui oggi non si parla più se uno legge centinaia di testi di morale sessuale classica dove si aveva un linguaggio anche molto molto esplicito attenzione che l'unica forma lecita di godimento del piacere sessuale anche tra gli sposi è durante l'atto coniugale cioè durante l'atto da cui può nascere una vita noi sappiamo benissimo lo dico ad abbondanza ma perché guai quando vengo travisato su queste cose qui se una coppia per esempio è sterile sopravvive l'elemento unitivo dell'atto sessuale possono stare tranquillamente insieme così come quando finisce l'età feconda quindi si capiscano bene queste cose no? ma però capite bene cioè capiamo che cosa significa attenzione adesso qui sono vogliamo vedere altre spie che vengono dalla parte della concorrenza del nemico andiamo proprio sul pesante sul pesante lo faccio? chi di voi sa che cosa succede in una messa nera? purtroppo profanazioni di ostie consacrate ma all'interno di orge rituali perché questa è una messa nera purtroppo che numero è il comandamento che proibisce gli atti impuri? è il numero 6? ma il numero del diavolo qual è? perché il numero del diavolo è il 666? perché non è il 444? o il 555? perché è il 666? si era mai chiesto qualcuno? in italiano poi c'è pure quella 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 strana cosa che sesso c'ha tre c'ha tre s no? e s s o 6 6 6 o no? allora capite che se uno interiorizza bene questa cosa qui anche tutte quante le questioni che si fanno oggi di vario genere e capite quali sono cioè dentro la santa fede cattolica cessano semplicemente di essere se tu attenzione anche se questo non è vero se questa ricostruzione non fosse vera che vi ho detto che è opinabile la dottrina della chiesa sul sesto comandamento che certamente senza questa spiegazione rimane un po' più difficilmente comprensibile anche se un po' si capisce comunque rimane quindi i problemi che si sollevano oggi relativi a certe cose o a certe forme della sessualità non hanno ragione di essere d'accordo? perché la vita sessuale è lecita solo all'interno del sacramento del matrimonio solo nell'esercizio degli atti coniugali aperti alla vita punto d'accordo? attenzione la vita sessuale tra gli esseri umani dice la chiesa in un bellissimo passaggio della Gaudium et Spes ve lo voglio leggere deve anche essere vissuta dagli sposi in maniera bella all'interno del sacramento del matrimonio e qui c'è il bellissimo compito degli sposi proprio di riscattare e di elevare al linguaggio di amore dentro sempre il contesto sacramentale una realtà che rischia di essere specialmente le donne io lo so perché sono sacerdote soffrono quando la vita sessuale è poco affettuosa e molto materiale d'accordo? gli sposi hanno tra gli altri compiti anche quello di vivere una sessualità bella come i santi hanno vissuto Santa Giovanna Beretta Molla col marito erano felicissimi di stare insieme non soltanto perché c'erano tanti figli ma perché stavano santamente felicemente insieme cioè Gesù ha redento questa cosa quindi si capisca bene questo concetto anche se bisogna poi vivere dentro i confini della redenzione da lui effettuata allora un bellissimo passaggio della Gaudium et Spes il numero 49 il signore si è degnato di sanare attenzione sanare deve sanare qualcosa che è malato no? perfezionale ed elevare questo amore cioè l'amore tra un uomo e una donna quindi che deve essere sanato perfezionato e rielevato perché è sceso e bisogna riportarlo su questa è la Gaudium et Spes questa è una teologia del medioevo del concilio di Trento che qualcuno storce la bocca la Gaudium et Spes è il concilio Vaticano II questa è l'ultima costituzione del 65 un tale amore unendo assieme valori umani e divini all'amore sponsale conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi attenzione che si esprime mediante sentimenti e gesti di tenerezza e pervade tutta quanta la vita dei coniugi anzi diventa più perfetto e cresce proprio mediante il generoso suo esercizio è ben superiore perciò attenzione alla pura attrattiva erotica che egoisticamente coltivata presto e miseramente svanisce anche Benedetto XVI nella Deus Caritas Est ha fatto dei bellissimi discorsi sulla differenza tra l'amore erotico e l'amore agapico e come l'amore erotico che è la componente essenziale della vita sessuale deve essere attratto dentro la dimensione agapica cioè di donazione di sé prosegue il testo questo amore è espresso e sviluppato in maniera tutta particolare nell'esercizio degli atti che sono propri del matrimonio qui capite sempre il linguaggio della chiesa che grazie a Dio è sempre molto elegante e sobrio ma abbiamo capito di che cosa si parla ne consegue attenzione che gli atti con i quali i coni si uniscono attenzione al termine in casta intimità come casta intimità ma ora pure nel matrimonio c'è stato bisogno di essere casti eh già sì pure nel matrimonio bisogna essere casti non come sono casto io non come è casto un consacrato o una consacrata ma in casta intimità e qui anche qui la chiesa non fa un'esplicitazione come c'erano i manuali di morale sessuale dei cento anni fa ma chi vuole capire capisca casta intimità che significa pensiamo gli atti con i quali i coni si uniscono in casta intimità sono onesti e degni onesti onesti significa moralmente leciti non peccaminosi e degni quindi conformi alla dignità dell'uomo attenzione ancora compiuti in modo veramente umano cioè prima cosa occorre pensare la differenza con cui si uniscono mi si perdoni se sono un pochino esplicito gli esseri umani si guardano in faccia gli animali no ma non solo gli animali si uniscono in maniera brutale d'accordo loro non lo sanno che da quell'unione nascerà la vita loro sono programmati per fare questa cosa e per loro la cosa importante è soltanto il piacere il piacere è ordinato alla procreazione dal programma divino non da loro d'accordo ma gli esseri umani non soltanto devono ordinare gli atti alla procreazione ma anche all'amore reciproco in modo veramente umano cioè fai sentire a tuo marito e a tua moglie quando ti unisci che tu lo stai amando perché purtroppo anche dentro il matrimonio anche tra marito e moglie un sacerdote queste cose le sa e credetemi che si sanno cioè può essere brutta una cosa del genere se non vissuta come donazione come espressione di amore quindi compiuti in modo veramente umano favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono vicendevolmente nella gioia nella gratitudine gli sposi stessi quest'amore ratificato da un impegno mutuo e soprattutto consacrato da un sacramento di Cristo resta risolubilmente fedele eccetera 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 allora tutte queste cose e l'ho detto alla fine proprio per far capire come questo è un appendice d'accordo perché le rivelazioni private specialmente quando provengono da una mistica di cui ancora non è ufficialmente introdotto il processo di canonizzazione so che si sta cominciando a raccogliere del materiale ma ancora non è partita nemmeno la fase di Ocesana anche io spero che parta il più presto possibile che è Maria Valtorta noi io non mi appoggio a queste cose su Maria Valtorta anche se le voglio bene la ringrazio d'accordo ma Maria Valtorta porta a sintesi e a compimento tutte le cose che ci siamo dette che vedete sono pieni di indizi d'accordo indizi che si trovano nella Sacra Scrittura e nella lettera del testo nella testimonianza dei padri nella testimonianza dei santi e in alcune fonti magisteriali ok eccessionalmente rispondo a una domanda l'atto sessuale non è finalizzato solo alla procreazione l'atto sessuale è finalizzato naturalmente alla procreazione cioè l'unico atto lecito quando la non ordinazione anche alla procreazione non dipende dalla volontà dell'uomo come la menopausa o una donna incinta sopravvive l'elemento unitivo d'accordo e gli iconici possono usare del matrimonio per amarsi l'un l'altro quello che non si può fare è quando si è naturalmente fecondi di rendersi volontariamente infecondi quindi fare un atto di volontà con cui si disgiunga l'aspetto procreativo da quello unitivo questo è peccato che la contraccezione in qualunque forma sia applicata antica o moderna quindi se si sforzi con l'intelligenza altrimenti si apre l'umana vita e si va a capire ora Maria Valtorta il Gesù di Maria Valtorta prende tutto questo e lo acclara leggo soltanto un passaggio e poi chiudiamo perché abbiamo finito avrei voluto parlare molto di più di Maria Valtorta non ci ho parlato quasi per niente ne sono contento perché desidero che chi ascolta ripeto questa è un'ipotesi eh attenzione questa è un'ipotesi però capite quante cose vengono spiegate quante cose si capiscono alla luce di queste ipotesi capite capite anche perché Gesù ha voluto rimanere vergine dice ma nel matrimonio è lecito sì nel matrimonio è lecito nel matrimonio è lecito ma comunque tu rifai la stessa cosa che è stato fatto nel peccato originale è lecito nel matrimonio attenzione eh ma Gesù quella cosa non la farà mai la Madonna quella cosa non la farà mai ed ecco perché i sacerdoti non si devono sposare e non si possono e io personalmente avete visto quando ci facevano le questioni del facciamo i video i video i video probati facessero quello che gli pare quanto mi riguarda io non mi sposerò mai ma manco morto ma attenzione l'amore che io ho verso le famiglie sposate l'ho detto ieri durante l'omenia verso le famiglie quando vedi i bambini se potessi fare un'altra vita io vorrei vorrei anche vivere perché sarà perché è meravigliosa anche la vita sponsale è meraviglioso avere dei figli è una cosa bellissima d'accordo ma un prete c'ha già tutto c'ha d'accordo c'ha di più capite non va a cercare di meno se c'hai di più capite no ecco allora leggiamo sto benedetto Gesù se non manco ancora parola insomma allora Dio padre creatore aveva creato l'uomo e la donna con una legge d'amore tanto perfetta che voi non ne potete più che nemmeno comprendere le perfezioni legge d'amore devo dire un'altra cosa perché non l'ho approfondita l'amore non è il sesso come si dice oggi adesso ci stanno gli scandali le provocazioni voi sapete quante mistiche sono state abbracciate da Gesù Santa Margherita Maria la Cocca Gesù se l'ha tenuta attaccata al costato labbra di Santa Maria Margherita sulle labbra della ferita aperta del cuore di Gesù per un'ora ma non è un gesto forte d'accordo mi sono dimenticato di prenderlo ce l'ho lì dietro ma se ci faccio un salto il beato Alan Della Rupe un santo il diffusore del rosario la Madonna lo chiamava mio sposo ha scritto che la Madonna gli ha dato un bacio capito beato lui non si capisce che bacio ma gli ha dato un bacio l'ha allattato al seno non vi scandalizzate sono cose che sono successe nella chiesa cattolica pure a San Bernardo è successa questa cosa Luisa Piccarreta Gesù la baciava la abbracciava come due innamorati capito l'amore in paradiso ci starà non ci starà il sesso ma l'amore sicuramente si d'accordo qui purtroppo le catechesi miei antiche un papa ha detto che un bacio fuori del matrimonio un bacio non ci sarebbe niente di male ma siccome oggi abbiamo la concupiscenza un bacio forte c'è il rischio che te la risvegli e se te si risveglia con quella concupiscenza fa il rischio della castità ma il bacio di persiano è una cosa bella non è una cosa brutta io sono sicuro che i baci in paradiso ce stanno 100% d'accordo il bacio non è sesso capite l'abbraccio non è sesso anche gli sposi a mio avviso dovrebbero amarsi di più anche nei momenti in cui devono essere un pochino un pochino un pochino casti e amatevi datevi un po' di baci datevi un po' di abbracci che per forza io non lo so perché non è che ci sto dentro ma insomma non è più bello fare una carezza è una cosa molto più bella perché se tu fai una carezza tu la dai ma ne gode soltanto chi la riceve e viceversa invece quando si vive la sessualità si gode in due sempre capito perché è una cosa che fa bene pure a te l'amore è oblativo è transitivo è bello Adam e Eva prima del peccato originale salvavano molto di più io sono sicuro di questo qui senza nessun dubbio allora Dio Padre Creatore aveva creato l'uomo e la donna con una legge d'amore tanto perfetta che voi non ne potete più nemmeno comprendere le perfezioni lo dice Gesù si amavano e tanto e vi smarrite nel pensare a come sarebbe venuta la specie se l'uomo non l'avesse ottenuta con l'insegnamento di Satana il maestro del sesso è Satana questo ricordiamolo guardate le piante da frutto e da seme ottengono seme e frutto mediante fornicazione mediante una fecondazione su cento coniugi no dal fiore maschio esce il pollin guidato da un complesso di leggi meteoriche e magnetiche va all'ovaio del fiore femmina questo si apre lo diceva e produce non si sporca e lo rifiuta poi come voi fate per gustare il giorno dopo la stessa sensazione produce sia la nuova stagione non si infiora e quando si infiora è per riprodurre guardate gli animali tutti avete mai visto un animale maschio ed uno femmina andare l'uno verso l'altro per stare l'abbraccio e la scive e commercio gli animali sono diventati purtroppo oggi sovente maestri degli esseri umani lo dico con un dolore immenso e con tanta sofferenza no da vicino e da lontano volando strisciando balzando correndo essi vanno quando è l'ora al rito fecondativo nevi si sottraggono fermandosi al godimento ma vanno oltre alle conseguenze serie e sante della prole unico scopo che nell'uomo semi dio per l'origine di grazia che io ho reso in terra dovrebbe fare accettare l'animalità dell'atto necessario da quando siete discesi di un grado verso l'animale vedete come lo dice Gesù necessario da quando siete scesi ma è la procreazione il fine primario della sessualità primario è la giustificazione principale voi non fate come le piante e gli animali voi avete avuto a maestro satana lo avete voluto a maestro e lo volete e oggi è un grande maestro su questa materia ascoltato da molti e le opere che fate sono degne del maestro che avete voluto ma se fosse stati fedeli a dio avreste avuto la gioia dei figli santamente senza dolore senza spossarvi in copule o scene indegne che ignorano anche le bestie le bestie senza anima ragionevole e spirituale sentite che parole che Gesù è questo è Gesù che parla è l'opera maggiore volume primo capitolo quinto 27 agosto 1944 all'uomo e alla donna depravati da satana dio volle opporre l'uomo nato da donna con la d maiuscola sopra sublimata da dio al punto di generare senza aver conosciuto uomo fiore che genera fiore senza bisogno di seme ma per unico bacio del sole sul calice inviolato del Giglio Maria allora facciamo uno slogan noi adesso ci ritroviamo in questa condizione sesso senza amore è possibile purtroppo sì ma è peccato certamente sì e amore senza sesso è possibile certamente sì è peccato mai sesso con amore sesso con amore a certe condizioni va bene dentro un sacramento è rettamente ordinato questo rimane vero anche se tutto quello che ci siamo detti vero non fosse ma io sinceramente a quello che ci siamo detti personalmente ci credo alla prossima puntata e una santa notte a tutti e Dio vi benedica Ave Maria grazie